Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per ripistino della pavimentazione tra Valdichiana e Monte San Savino, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla Fipili per lavori, un chilometro di coda in direzione Mare tra Ginestra e Montelupo e tra Empoli Est e Montelupo in direzione Firenze. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare. Per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!